Ed ora parliamo di economia, la logistica e il magazzino sono sempre più elementi centrali nelle dinamiche dell'impresa contemporanea. Appindustria ha avviato una serie di incontri proprio sul tema. La logistica assume un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche d'impresa contemporanea e con il mese di ottobre Appindustria ha avviato una serie di cinque incontri dedicati all'analisi dell'evoluzione del ruolo della logistica dei magazzini all'interno dell'economia che viviamo. Incontri tra presenza e online che stanno coinvolgendo imprenditori, dirigenti e anche il mondo della scuola. Il magazzino oggi ha assunto un ruolo fondamentale all'interno dei flussi che attraversano sia le aziende che addirittura filiere logistiche. I magazzini erano considerati un deposito in cui la merce sostava in attesa di essere prelevata. Oggi sono il centro nevralgico di controllo, di gestione e organizzazione dei flussi che vanno dai fornitori ai clienti. Ogni volta avremo un professionista differente, parlerà di argomenti diversi, quali le strutture, intese come scaffalature per il magazzino, la sicurezza all'interno del magazzino, sia delle strutture che proprio a livello del personale della sicurezza, poi avremo i mezzi di movimentazione che sono fondamentali all'interno di una logistica, di un magazzino, per ottimizzare e per lavorare bene. Ed infine avremo la parte con il professor Ranini che è il collegamento con la scuola. Lui è docente all'Università Cattolica ma presta anche servizio qui all'Istituto d'Arco di Mantua. Quindi il collegamento con la scuola sono quelli che noi cerchiamo di coltivarci e far sì che da grandi possano entrare nel nostro mondo. Prossimi appuntamenti il 4 e il 18 novembre e infine l'11 dicembre.